Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale, qui è Roberto che vi parla e quest'oggi andiamo a vedere se conviene oppure no aprire il nuovo main box principale quindi quello grande da 180 pacchetti, uscito da poco su Yu-Gi-Oh! 2 Links, anzi è uscito proprio oggi, quindi andiamo a vedere che catechi sono che ha il suo interno e nel frattempo ragazzi come sempre vi ringrazio per il vostro supporto e vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a lasciare un bel mi piace se questi video vi stanno piacendo prima di vedere le carte del main box vi consiglio di dare un'occhiata alle abilità della mission in carriere perché queste abilità che a parte sono parecchie e ne hanno rilassate, queste abilità vanno a supportare i magi che vedremo che verranno supportati con le nuove carte quindi hanno un doppio supporto, sia con l'abilità che con le carte nuove, quindi è perfetto allora, un'abilità che vi voglio far notare però è quella qui che noi otteniamo usando antinomi che probabilmente è un'abilità che è molto forte ma ci fa aggiungere dal deck alla mano questa carta magia quindi noi dobbiamo già possederla se vogliamo usare questa abilità che è veramente forte comunque è molto utile per il match OTG e poi un'altra abilità che invece è interessante e dovrebbe essere questa se non sono sbaglio per i Sky Striker, quindi questa abilità ci aggiunge i link che noi al momento possiamo ottenere solo tramite l'abilità perché nel main box non ci sono questa abilità ci fa aggiungere infatti la saltatrice dal cielo, ingaggiare dal deck alla mano adesso andremo a vedere pure come funzionano però da ricordare che questa carta ci fa aggiungere una carta saltatrice dal cielo, dal deck alla mano quindi è una carta che per questo match è fondamentale andiamo a vedere come funzionano questi nuovi archetipi allora, ho già visto, ho già letto praticamente quasi tutte le carte che ci sono qui quindi già ho un'idea chiara anche se già il 90% delle carte le conosco quindi vi spiegherò in modo molto semplice come funzionano le carte che vengono inserite qua dentro e soprattutto i nuovi archetipi come funzionano quindi abbiamo l'archetipo saltatrice del cielo è un archetipo che fa un uso principale delle carte magie come interruzioni delle giocate dell'avversario abbiamo una, abbiamo due e ci deve essere anche un'altra carta magia sempre per la saltatrice del cielo che interrompono le giocate dell'avversario che si trova però nel pacchetto quello che ho offerto a speciale con 1600 gemme che andremo a vedere più tardi ora, queste due carte ci permettono di interrompere le giocate dell'avversario la carta invece, quella lì nel pacchetto speciale ci permette di prendere un mostro che controlla l'avversario mentre poi abbiamo la carta che ci viene aggiunta tramite l'abilità che abbiamo visto prima che ci permette di ricercare qualsiasi carta dal deck e aggiungerla alla mano ora, queste carte magie ottengono un effetto aggiuntivo bonus se abbiamo tre o più carte magie nel nostro cimitero quindi qualsiasi carta magia e questi effetti bonus sono veramente, veramente molto forti per esempio basta vedere questa carta come l'effetto cambia da scegli come bersaglio un mostro nel cimitero dell'avversario e il bandissilo a, possiamo anche scegliere di evocare quel mostro sul nostro terreno poi, tutte queste carte magie hanno una protezione dovuta da questa carta magia continua fa sì che l'avversario non può rispondere alle nostre carte magie in più ci permette di riciclare le nostre risorse dal cimitero sul campo quindi possiamo generalmente usare questa carta e poi rimetterla sul campo tramite la carta magia continua dopodiché questa carta qui possiamo riutilizzarla nuovamente il turno dopo essendo comunque una carta magia rapida poi abbiamo il mostro principale questo mostro ha un effetto rapido che può essere offerto come attributo e evocare un asciutatrice del cielo dal extra deck nell'extra deck tutti i mostri sono dei link da uno che hanno effetti che ci aiutano nella battle phase ci aiutano a interrompere le giocate dell'avversario ridurre l'attacco dei mostri dell'avversario quindi generalmente è questo che fa il mazzo è un mazzo molto di controllo quindi non è un mazzo combo come può essere il TG che vedremo dopo e devo dire comunque che questa è la strategia del deck molto simile ad Alter Jesus se possiamo dire ora questa carta il fatto che ha un effetto rapido permette appunto di scrivare i bersagli come il dissimulatore di effetto quindi molto molto forte devo dire in più questa carta se è nel cimitero ha un altro effetto che viene evocata quando un link viene distrutto in battaglia quindi un link sempre vi ricordo a satatrice del cielo quindi questa carta è veramente molto forte che poi il turno dopo ci permette di rievocare un altro link ora come link in questo box c'è solo questo mentre gli altri 4 vengono aggiunti con l'abilità che vi ho fatto vedere prima e devo dire che come archetico si permette molto bene anche perché ha una carta magia terreno che per esempio dipendentemente ci permette di disotterrare 3 carte ed aggiungerne una dal deck alla mano a nostra scelta ed è veramente molto utile in più questa carta non può essere rimossa facilmente dall'avversario perché se va al cimitero possiamo evocare un mostro dal nostro deck quindi evoichiamo Rai ed è per questo che io penso che questo box se avete intenzione di aprirlo oppure no dovete prenderlo 3 per perché questo mostro è un'ultra rara e ne servono 3 per far funzionare al meglio questo mazzo soprattutto nel grind game ok adesso a vedere invece le carte TG come funzionano la carta principale che ci viene aggiunta è TG rimozione di limite è già limitata a 3 perché è carta molto molto forte devo dire questa carta fa sì che il TG non può usare carte limitate a 3 come prigione del drago cattura dispositivo quindi teneremo a mente questa cosa questa carta qui che molto probabilmente ne vorremmo giocare 3 coche almeno che non decidiamo di inserire qualche carta trappola che sia già limitata a 3 all'interno di questo deck e allora ne andremo a giocare 2 però guardando la consistenza che aggiunge questa carta magia penso che ne avranno giocate quasi sempre 3 ora questa carta praticamente ci permette di aggiungere 2 mostri TG con nomi diversi da deck alla mano e permette di fare una full combo con 3 mostri TG andando a evocare prima il lanciatore tridente come primo passo do di che fare il sincro da 5 tuner più l'altro sincro da 5 questa volta normale che andremo a vedere dopo quali sono e praticamente da lì possiamo usare l'abilità per mettere il sincro da 2 sul campo e poter entrare in una sincro evocazione di livello 12 oppure di livello 10 quindi già ci permette molto molto bene questo mazzo la combo in sé per sé è forte devo dire quindi un supporto TG veramente forte anche grazie all'abilità che va a mettere va a unire tutte queste carte e le mette tutte insieme e amalgama meglio la strategia che ha questo deck dopo di che cos'altro abbiamo in questo box abbiamo supporto al strategia pianta ok abbiamo supporto specchio dei sogni niente di troppo interessante abbiamo il supporto Clifford che invece un'occhiatina ce lo darei perché abbiamo questo mostro qui in più abbiamo anche quest'altro ora quest'altro mostro il genio Clifford ci permette di aggiungere per le amende vi dice che quando 2 o più mostri vengono evocati specialmente quindi solo tramite evocazione pendulum al momento possiamo aggiungere un mostro macchina di livello 5 o superiore da deck alla mano ci sono veramente tanti machi che hanno un mostro macchina di livello 5 o superiore quindi sono sicuro che usciranno delle combo molto interessanti con questa carta ma che magari riusciremo ad unire l'archetipo Clifford con altri pacchetti che usano le carte di tipo macchina per poterlo farlo funzionare al meglio quindi io ci darei un occhio poi abbiamo le carte Ogdoatico che vengono messe in questo box non ce ne è tantissimo però abbiamo questa carta ultra rara e abbiamo anche se non sbaglio delle carte magie che adesso non vedo ecco qua questa dopo abbiamo una carta trappola a mano che viene inserita in questo box onestamente a me piace quando mettono delle hand trap all'interno dei box principali perché vuol dire che a parte dell'archetipo andiamo ad ottenere pure delle hand trap per poter riempire questi spacci che magari noi abbiamo nel nostro nel nostro deck questi spacci riservati al non engine in modo molto facile senza andare ad aprire altri box ora l'effetto di questa hand trap è uguale all'effetto del dissimulatore di effetto né più né meno l'unica differenza è che questa carta funziona solo se l'avversario evoca specialmente uno o più mossi scoperti a differenza invece del dissimulatore di effetto che possiamo farlo anche sulle evocazioni normali tutto qui abbiamo poi delle ristampe del selection box che molti giocatori stavano aspettando abbiamo l'onamato coppia carta quasi fondamentale se non dire di più per il mazzo onomatopea e abbiamo anche il buddha finale infini cingoli questa carta per l'infini cingoli mazzo che io adoro tantissimo e purtroppo non potevo giocarlo perché mi mancava questa carta qui ora che ce l'ho questa carta trasforma il mio deck da essere un deck a 2-3 carte combo quindi andiamo a fare una combinazione che richiedeva due carte specifiche invece con questa carta qui con il buddha possiamo aggiungerlo alla mano o averlo a disposizione quasi in tutte le nostre partite e ci permette di estendere egregiamente le nostre combo quindi devo dire che queste sono le carte principali del box che io abbiamo menzionato ci sono altre carte di cui non ho parlato come il supporto gouki il supporto alle strategie link che può essere queste carte qui ex kid che hanno ricevuto anche un'abilità specifica che vi consiglio di andare a provare se non l'avete ancora fatto che quando i match ricevono un'abilità specifica soprattutto nelle missioni carriera è un buon segno che quei match hanno ricevuto un ottimo supporto dopodichè abbiamo anche un supporto per il malocchio e più altri supporti per altri carte e match generici quindi interessante come cosa quindi il mio parere su questo box è positivo vi ho fatto vedere come funzionano le carte come funzionano gli archetipi ora sta a voi se dovete aprire oppure no questo box io vi ho detto generalmente come funzionano le carte al suo interno anche mi stavo dimenticando di una carta importantissima che è il dispiegamento fusione questa carta qui che è limitata al 3 è un must per i match che usano le fusioni a me viene in mente subito il cyber drago che può usare questa carta in modo efficace ma sono sicuro che ci sono altri mantifusioni che sul momento non mi stanno venendo in mente quindi questo era il box vi faccio vedere come ultima cosa che hanno messo il pick up box per i tg quindi un'altra cosa che dovete prendere in considerazione se volete abilitare i tg qui con 30 buste quindi spese di 1500 andiamo a ottenere una copia di tutte le carte che vedete qua sopra in più possiamo anche fare un reset e quindi con più gemme possiamo andare a prendere tutte le copie delle carte che ci servono questo è un ottimo punto di partenza per poter abilitare i tg ed è una cosa da prendere in considerazione mentre se noi andiamo nei pacchetti speciali qua sotto andiamo a vedere che c'è la carta sky strike che vi parlavo prima che è questa carta qui schiacciando nelle info ci dice praticamente il suo effetto che è quello di rubare un mostro con effetto del nostro avversario quindi queste sono delle cose da prendere in considerazione perché vanno ad aumentare in modo diretto la spesa di gemme che andrete a fare per poter montare il deck quindi come sempre vi consiglio come di prendervi quel momento per riflettere su come funzionano i match quella strategia vi può piacere vedete anche come vengono giocate così avete un'idea migliore di quante carte vi servono e io direi che per il video di oggi questo è tutto vi ringrazio come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di lasciare un bel mi piace sotto questo video e fatemi sapere se questo questo formato vi è tornato utile e ci vediamo sempre qui con un nuovo video sul nostro canale ciao a tutti